Siamo alla seconda e una minima di quattro anni sul miglio non corre il numero uno, uffa, ne rimangono in quattordici. Sul numero otto sale Ivano Fiero, Pasqualino San, gode il pronostico e il favore Urania Lewis, una gest foto targata Lewis con il Caterpillar in salchi, ma la corsa si prospetta molto aperta e inizia a prendere velocità la macchina. Otto problemi United, il 6 di Galoppo, Upside Griff, con a largo subito Pasqualino San che vorrebbe farsi un po' di parcheggio, vediamo se la cosa lo ottiene. Si completa il lancio nell'ordine del quattordici, rimane a largo l'inserimento di una verità B, poi via via tutti gli altri è partito bene il quattordici Ubaldo Caparro. Si completa la piegata e anche il quarto iniziale che se ne va in 29-8 e viene via ora gradatamente Urania Lewis, la gest foto del Caterpillar, che tenta di prendere la scia di Upasqualino San, gli altri molto distanti a un pochettino a fine indiana dietro, quasi a fisarmonica. 44-2 da 1-13-7, mantiene il comando Upside Griff, questo libeccio Griff affidato a Giorginio. Non ci sono variazioni sostanziali, mezzo miglio iniziale in 59-9. I cavalli che affrontano il penultimo rettilineo, Giorginio, con Upside sempre alle prese con Upasqualin, Univerità B e Urania Lewis, chilometro nell'ordine del quattordici e sei, allunga ancora bene disinvolto il leader, il libeccio Griff, ora va in carburation la gest foto del Caterpillar, è incisiva, ma il Caterpillar deve proseguire, poiché Giorginio ha ancora della buona benzina in mano, perché lo vediamo un po' disteso in salchi, vediamo un po', ormai la lotta tra i due, di dentro Upside e Urania a largo, retta d'arrivo con Urania che insiste, si difende Upside, ma Urania sta passando di forza, passa, ha fatto un po' il blef, Giorginio ha fatto un po' il blef, vince facile Urania da cavallo superiore, mentre per il terzo è Ubaldo Caparo numero quattordici con il buon Siddi ad avere la meglio, due minuti spaccati, tondi 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 ma molto tondi, bella questa gest foto guidata al meglio dal Caterpillar, un po' bleffava Giorginio, sdraiato, sembrava che ne avesse tante di benzina, ma in retta d'arrivo forse la qualità e la superiorità della targata Lewis ha avuto ragione, due euro come, strano, due euro in chiusura come due euro il tempo totale, 1,15, linea allo studio.